Il barbecue è una tradizione che nasce negli Stati Uniti e da qualche anno è arrivata anche all'Europa. Esattamente da due anni l'abbiamo portata anche in Friuli. Siamo importatori di molte macchine sia dall'Oltreoceno, sia dall'Europa, sia dal Giappone per avere praticamente tutti i tipi di cottura che si possono avere nel mondo barbecue. Con il barbecue possiamo cucinare un po' tutti gli alimenti, possiamo cucinare le carni, i pesci, sia tutta la panificazione, ma soprattutto quello che lo rende un prodotto unico è sicuramente la fumicatura che con la griglia tradizionale non si può avere. Disponiamo di prodotti un po' per tutte le categorie di barbecueisti, partiamo dalle famiglie, sono soprattutto adatto alle famiglie, ai piccoli ambienti, non solo a giardini, ma anche a terrazzi e a piccoli patini. E sono macchine a gas. Abbiamo delle macchine sicuramente un attimino più professionali che permettono non solo vari tipi di cottura e di affumicature contemporaneamente, ma anche una grande quantità, soprattutto se si vanno molti ospiti. Inoltre abbiamo una serie di prodotti per i veri e propri appassionati, i puristi del barbecue. e parliamo degli smokers che sono in grado di affumicare su più livelli carni e pesci di tutti i tipi. E lavorano principalmente a carbonella. Abbiamo poi delle macchine molto innovative che arrivano direttamente dall'America, da un'azienda di Salt Lake City, la Traeger, che brucia come come si vede il pellet, però non è il pellet classico che si brucia nelle stufe, è un pellet aromatizzato e certificato bio. Nel senso che bene o male non arriva dalle piantagioni, ma arriva tutto al bosco. Con questo tipo di barbecue abbiamo un controllo preciso sia delle temperature del barbecue all'interno, ma anche grazie alle sonde che si possono inserire direttamente nelle carni, e dopo lo vedremo nella prova con il signor Tassi, possiamo ottenere sempre e comunque delle cotture perfette. Sia che si tratti di carni, sia che si tratti di pesci, sia che si tratti di panificazione. Per i grandi puristi del barbecue sicuramente qui disponiamo del miglior barbecue a pelle al mondo. Il Kamato è di tradizione giapponese, di fabbricazione tedesca. Questo è un barbecue che permette con una semplice ricarica di caponella almeno 9-10 ore di calore. Si regola facilmente e si pulisce facilmente, come tutte le altre. La cosa bella soprattutto di questi barbecue è che non ci vogliono le grosse capacità. E soprattutto quasi tutte le macchine che vedete e che avete visto fino adesso sono anche molto semplici da pulire. Alcuni sono addirittura auto puliti. Abbiamo prodotti un po' per tutte le tasche, sicuramente abbiamo prodotti sia per le famiglie sia per gli personaggi. E arriviamo sicuramente con alcuni prodotti su una fascia molto alta, sia di qualità purtroppo anche di prezzo. Ma comunque diciamo sicuramente sono molti molto efficienti. Grazie a tutti.